e ben ritrovati ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico 7d coppe e dai un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo se non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti al canale pollicione in alto e partiamo subito oggi facciamo un'infarinata pazzesca del mercato ragazzi vado a dare una una raffica pazzesca vado a dire tutto ieri non ho potuto fare il video youtube mi sta dando dei problemi perché in pratica ricevo delle notifiche che video non sono miei i video questo che parla non sono io per youtube non sono io ragazzi non lo so più cosa devo fare spero che non mi creeranno problemi già mi hanno chiuso una volta il canale io penso che youtube sia filo laziale juventino ragazzi perché qua riporto le notizie il canale della roma e me da tutti questi problemi qua non so più cosa fare comunque sia oggi andiamo a sgranocchiarci queste notizie state sintonizzate allora ragazzi prima di tutto voglio parlarvi di ebram e delle dichiarazioni che ha fatto dopo una recente intervista io gli altri giorni vi ho parlato di ebram e vi ho detto che la stoneville sta su ebram in quanto sono interessati a riportarlo con la maglia granata la stoneville granata no in pratica però non vogliono pagare quella somma che la roma vuole ovvero che si aggira intorno ai 75 milioni forti la roma chiede questa cifra qua non perché è il valore di ebram perché sono forti della clausola di recompera che ha il celsi quindi ovviamente se il celsi è una clausola di recompera di 80 milioni la roma non può chiedere per ebram la metà 40 altrimenti così dai un input negativo al celsi altrimenti quelli vengono e poi ti chiedono di meno questa è tutta una strategia ragazzi quindi alla fine ci può anche stare però ovviamente il valore di ebram non si aggira assolutamente intorno a quella cifra e la roma quello che sta sperando è di far scattare questa clausola da parte della celsi affinché il celsi venga a bussare alle porte della roma quest'estate perché la clausola è valida solo per quest'estate a partire da luglio non da giugno ma a luglio quando comincia la nuova sessione della prossima stagione quindi a partire dal primo luglio la clausola potrà essere attivata e la roma sta sperando che magari il celsi ti venga a bussare alla porta con quegli 80 milioni o poco ci credo però niente da dire secondo la recente intervista rilasciata da ebram ha detto non si può sapere anche il giocatore ha detto la stessa cosa che ho detto gli altri giorni però ciò non è da togliere che la stone villa interessato e mi fanno sapere anche il milan interessato ad ebram ragazzi questa è la notizia del giorno il milan è interessato ad ebram non so con quali soldi non so con quali contropartite ma il milan vi ho sempre detto che a caccia di un attaccante e che vuol dire che sta trovando un attaccante mi fanno sapere che milan è interessato ad ebram e sta monitorando la situazione vedremo come si svilupperà e vedremo soprattutto durante il corso della stagione perché ancora deve finire la stagione se ebram riuscirà a fare qualcosa per tirare un po più in alto la somma o addirittura non riuscirà a fare niente ragazzi poi lì parleremo della situazione il prezzo croverà notevolmente non credo assolutamente che il celsi venga a bussare alle porte alla roma e dia una valigetta pronta con 80 milioni dentro io mi sfregherei le mani ragazzi devo dirvi la verità però tutti i nomi che stanno facendo questi giorni non sono nomi per la champions league perché qua ragazzi andiamo in contraddizione si parla di champions e poi ci appioppano giocatori ecco di un valore di 700 mila euro di stipendio stiamo parlando di imbalanzo la e singo ragazzi la roma ci può pure stare su questi giocatori magari interessata ma come comprimari e la roma è piena di comprimari non abbiamo bisogno di questi giocatori qua e se parliamo di champions ragazzi questi non sono giocatori da champions league questi sono giocatori per squadre da sesto settimo posto allora è contraddittorio allora non bisogna parlare di champions scusate perché allora se parliamo di champions che arriveranno gli introiti e tutto non si può investire tutti gli introiti della champions che ho spiegato vi ho spiegato molte volte perché però almeno una certa somma rientri i soldi di ebram vendi qualcuno sul mercato che non è per il financial fair play perché questo fair play finanziario mi ha rotto le scatole ragazzi ragazzi c'è una disinformazione pazzesca su questo financial fair play e mi hanno rotto veramente le scatole ve l'ho spiegato tantissime volte i bagnaz e ebram se andranno via e per licenziamento non idoneità tecnica decide murinio non perché la roma è costretta a vendere altrimenti non abbiamo fatto nessuno step negli anni passati perché stiamo commettendo gli stessi errori che abbiamo commesso con pallotto e questo continuo sempre a ripeterlo pinto si sta muovendo sul mercato i nomi visionati sono questi murinio chiede una cosa lui ai contatti con me e chiede informazioni per asenzio e se metto come ho detto l'altra volta pinto invece viaggia tutto dall'altra parte ragazzi sta a messa in lista determinati giocatori con stipendi molto molto bassi facili da portare a roma perché ovviamente i dai un ingaggio un po più alto però è difficile convincere le squadre perché ad esempio penso la ci vogliono 20 milioni però al giocatore gli dà 800 mila euro o un milione ragazzi mi sembra un po non c'è equilibrio non c'è equilibrio ragazzi con questi nomi assolutamente non c'è equilibrio poi se bios se bios del real madrid io non ho informazioni ogni sessione di mercato ci mettono se bios accostato alla roma nachos e bios loftus chic ragazzi questi sono nomi che ogni mercato della roma ci mettono ogni sacrosanto mercato della roma ci mettono accostato così come berardi ogni anno deve venire alla roma io non ho informazioni su questi giocatori devo dirvi la verità però i giornali fanno questo giochetto vedono gli stipendi che prendono i giocatori e vedono quelli più abbordabili ad esempio questo se bios che prende un milione e sei per la roma è abbordabile perché perché un giocatore con esperienza estera ha giocato all'arsenal adesso giocare al madrid si è perso un po quest'anno ha fatto un gol setto otto assist se non sbaglio ma è un comprimario ragazzi questi sono giocatori da rilanciare la roma deve andare su altro specialmente se dovessimo raggiungere la champions poi per i nomi veri reali li vedremo ragazzi per adesso mi fanno sapere questo poi un'altra cosa che vi volevo dire è che in pratica è tutta una situazione di venire adesso c'è il campionato che ricomincia c'è una partita ultra importante che è la partita della stagione fra due settimane con il feenor della bisogna vedere tutto ragazzi però io quello che voglio dirvi è quello che continuo a ribadire anche in financial fair play ad esempio l'inter il milan e queste squadre ragazzi sotto sotto si stanno muovendo pure la roma si sta muovendo ma io vedo però le altre squadre che hanno puntato differenti profili e differenti giocatori di livello più internazionale ad esempio c'è una bichetta parametro zero che la roma non sta puntando che viene da liverpool andrà in scadenza a fine stagione ed è un obiettivo dell'inter del napoli e la roma invece no ragazzi la roma l'obiettivo della roma è di andare a buttare 20 milioni per oilund che per carità è un buon giocatore ma ti chiedono 20 milioni se baios che è un giocatore che si deve ritrovare ragazzi e gli altri nomi singo del del torino ho fatto l'esempio l'altra volta che non fare mai affari con cairo balanzola devo spezia prendere solamente olma devo dirvi la verità sempre come comprimario però di titolari veri per il prossimato dobbiamo un attimino aspettare per vedere come si incastra il mercato appena che partirà perché l'anno scorso nessuno sapeva che andassimo a prendere giocatori del calibro di guainaldum e di bala e vedremo a fine stagione come finirà ragazzi però queste sono state occasioni magari si presenterà qualche occasione strada facendo e lo vedremo ma quello che mi viene da dire ragazzi è che purtroppo le altre squadre che hanno il financial free si stanno muovendo bene perché stanno prendendo profili internazionali ad esempio anche barcellona che non può fare mercato ma i giocatori a parametro zero li sta vedendo ragazzi li sta contattando è vero che barcellona li attira i campioni perché è sempre un nome d'elite barcellona quindi i campioni li attira ma noi però dobbiamo andare a vedere questi tipi di giocatori qua che già hanno un valore veramente alto che bisogna spendere tantissimi soldi ragazzi quando invece magari con un buon scouting puoi prendere gli stessi profili a molto di meno per due tre cinque milioni e oilund è stato pagato 700 mila euro ragazzi da me piace molto oilund ma 20 milioni mi sembrano un po' esagerati da regalare al lecce cioè lecce con 20 milioni se rifà lo stadio né per di qualcosa ragazzi comunque sia io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento youtube permettendo ragazzi se mi fanno fare il video non lo so perché dicono che questo non sono io che parlo non lo so perché non lo so dicono che sono contenuti non miei però vabbè ragazzi io vi porto informazioni vi dico quello che so qua troverete sempre tutti gli aggiornamenti ciao a tutti ragazzi pollicione in alto commentino sotto fatemi sapere cosa ne pensate se avete qualche domanda da farmi fatela vi farò il prossimo video ragazzi datemi qualche idea per i prossimi video seguirò le vostre domande quello che volete che vada a sviluppare magari c'è qualche situazione sul mercato e sempre forza roma ragazzi non dimenticate di iscrivervi al canale attivare la campanella dai ciao a tutti ciao a tutti